Abbiamo scelto la vetrina di Made Expo per presentare questo prodotto del quale siamo diventati esclusivisti nazionali. È la lastra Securoc prodotta dalla USG, un'azienda americana. È una lastra molto tecnica per un impiego prevalentemente in esterno che offre il vantaggio e tutte le caratteristiche delle lastre comuni, quindi leggerezza, facilità di taglio, versatilità nei vari utilizzi e nelle varie soluzioni architettoniche pur con tutti i requisiti tipici di una lastra da esterno e quindi preferibile alle altre soluzioni già normalmente in commercio che però necessitano di lastre più pesanti, non con la stessa facilità di taglio e sicuramente non con la stessa versatilità. In più Securoc ha sicuramente delle caratteristiche ulteriori in termini di resistenza all'usura nel tempo e oltre al fatto che non è attaccabile da agenti atmosferici o chimici o patogeni che sempre col tempo non potrebbero deteriorare il tamponamento. Crediamo in questo prodotto, crediamo nelle partnership internazionali e sicuramente con USG ne abbiamo conseguita un'altra importante e Made Expo riteniamo sia la vetrina migliore per promuovere e lanciare questo prodotto.